Romani capitolo 5, Romani capitolo 5, leggiamo dal versetto 1 al versetto 5. L'Apostolo Paolo che scrive Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi. E ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori, mediante lo spido santo che ci è stato dato. Vedremo questa mattina questi versetti così fondamentali, importanti per la nostra vita. L'Apostolo Paolo che ha, al capitolo 4, parlato della giustificazione per sola fede, abbiamo capito in che modo l'uomo può essere riconciliato a Dio. Infatti Paolo cita Genesi 15, 6, parlando di Abramo, dicendo che Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Paolo parla di Abramo per mostrare che la giustificazione è perso la fede. Non solo la giustificazione è perso la fede, non è grazie alla circoncisione, non è grazie alle opere, non è grazie alla circoncisione, e non è nemmeno grazie all'ubbidienza della legge. Questo abbiamo visto dal versetto 13 in poi. Abramo giustificato per fede, non per mezzo della legge. E quindi chi sono gli eredi della promessa fatta ad Abramo? Chi sono coloro che sarebbero stati beneficiari di questa promessa, di questa benedizione? Genesi 12, 3. Coloro che avrebbero creduto così come Abramo. Coloro che avrebbero avuto la stessa fede. La giustificazione è sempre stata solo per fede, fin dall'inizio. sulla base della grazia di Dio. Dio che giustifica l'empio, abbiamo visto, non colui che dimostra di essere giusto, ma colui che è empio e che viene giustificato per sola fede. Quindi non grazie alle opere, non grazie alla circoncisione, e non grazie all'ubbidienza della legge. E poi l'Apostolo Paolo ha terminato, abbiamo visto la scorsa volta, dal 18 fino al 25, ha terminato descrivendo la fede di Abramo, la natura della fede salvifica di Abramo. Ha elencato alcune caratteristiche di questa fede. La prima è questa. Egli credette sperando contro speranza. Egli credette sperando in Dio, questa completa fiducia in Dio, nonostante non c'erano speranze umane, di avere un figlio a cento anni. Suo corpo era praticamente morto, non poteva avere figli, ma lui aveva questa speranza in Dio, contro qualsiasi speranza umana. La fede dei credenti, questa fede salvifica, non si basa sulla speranza umana. Non solo, dice, il versetto 19, non venne meno nella fede, non divenne debole nella fede, non si indebolì, nonostante la sua condizione fisica, l'impossibilità di avere un figlio, Abramo non si indebolì nella fede. Terza caratteristica, non dubitò per incredulità, non ha messo in dubbio le promesse di Dio, non ha dubitato. Abbiamo visto che ci sono stati momenti in cui c'è stata questa incredulità, ma la sua fede è una fede perseverante, non ha messo in dubbio in modo permanente le promesse di Dio, ha avuto come noi dei momenti di debolezza, ma non dubitò. costantemente, anzi, fu fortificato nella fede, fu fortificato nella fede per grazie, Dio che l'ha fortificato, la sua fede era una fede perseverante. Non solo, quinta caratteristica, ha dato gloria a Dio, la sua fede salvifica, ha dato gloria a Dio, ha messo in luce chi è Dio, la sua sovranità, la sua potenza, Egli è colui che fa rivivere i morti, chiama all'esistenza le cose che non sono, lui ha dato gloria a Dio, a differenza della fede religiosa che mette al centro l'uomo, la fede salvifica dei credenti, mette al centro Dio, e poi, sesta e ultima caratteristica, pienamente convinto, completa certezza, completa certezza della potenza di Dio, ha creduto che Dio era anche in grado di adempere quello che aveva promesso. ecco la fede salvifica che non si basa sulle nostre forze, si basa sulla potenza, sulla sovranità, sull'autorità di Dio. Questo porta gloria a Dio. Questa era la fede di Abramo e questa è la fede di coloro che avrebbero creduto come lui, giustificati per fede. Questa è la nostra fede. La fede dei suoi discendenti, noi, la sua chiesa, la chiesa di Cristo, di credenti che sono discendenza di Abramo. Infatti, l'Apostolo termina in questo modo, versetto 23 fino al 25, e mette in luce che quello che Dio disse ad Abramo, questo, e gli fu messo in conto come giustizia la sua fede, disse questo non solamente per lui. Meraviglioso, quello che disse Genesi 15, 6, non era solamente per Abramo, ma è per chiunque crede in Dio. Per noi, specificamente, che abbiamo creduto in colui che ha risuscitato Gesù dai morti, anche noi, giustificati per sola fede, Dio disse, gli fu messo in conto come giustizia ad Abramo, ma quello che disse vale anche per noi, anche per noi, giustificazione per sola fede. E questa giustificazione è possibile grazie ai meriti dell'uomo? No! Grazie alla morte di Gesù Cristo è stato dato a causa delle nostre trasgressioni ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Ecco in che modo l'uomo può essere giustificato grazie al sacrificio di Cristo. Abramo e tutti quanti gli altri, noi, discendenza di Abramo, salvati, riconciliati grazie alla morte di Cristo. Lui, punito al posto nostro per condurci a Dio, è risuscitato per la nostra giustificazione. Paolo è tornato praticamente a dire quello che disse al capitolo 3, giustificati gratuitamente per la sua grazia. Romani 3,24 Questo è quello che disse all'inizio. La giustificazione è gratuita per la grazia di Dio mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, mediante la sua morte e la sua risurrezione. Non c'è nessun merito da parte dell'uomo, nessun vanto. La giustificazione è per sola fede, per mezzo della grazia di Dio. Paolo quindi ha proclamato in questo capitolo 4 e anche capitolo 3 l'ultima parte in che modo l'uomo può essere giustificato, può essere salvato. Ma adesso al capitolo 5, questi primi cinque versetti, vedremo qual è il risultato della giustificazione per fede. Qual è il risultato della giustificazione per fede? E riassumo il risultato in questo modo. La speranza gloriosa dei figli di Dio. Coloro che Dio ha giustificato per fede hanno questa speranza gloriosa, questa speranza gloriosa che hanno i suoi figli. Di questo Paolo parlerà in questi cinque versetti. Vedremo anche altri aspetti importanti ma primariamente Paolo parlerà di questa speranza gloriosa dei figli di Dio come risultato della giustificazione per fede. Ora quando parliamo di speranza voglio chiarire il significato di questo termine prima di iniziare nel versetto 1. La speranza di cui parla Paolo in questi versetti la speranza di cui parla la scrittura non è la speranza del mondo dell'uomo la speranza dell'uomo del mondo è questo ottimismo riguardo a cose di cui non c'è certezza è un ottimismo riguardo a cose di cui non c'è alcuna certezza la speranza dei credenti invece è una certezza è una completa certezza in quello che Dio promette infatti Abramo credette che Dio fa rivivere i morti chiama l'esistenza le cose che non sono versetto 21 pienamente convinto che quanto Dio ha promesso è anche in grado di comperlo la speranza dei credenti è una fiducia certa di una realtà che non si vede ma che ha certezza ha certezza il credente perché questa certezza è a motivo delle promesse di Dio a motivo della parola di Dio la speranza dell'uomo è un'incertezza è un ottimismo riguardo a cose di cui non c'è certezza ma la speranza dei credenti è una completa certezza riguardo a cose che non vede ma di cui è sicuro motivo delle promesse di Dio iniziamo con i primi due versetti perché qui vedremo nei primi due versetti la speranza della gloria di Dio la speranza della gloria di Dio e poi dal versetto 3 al versetto 5 la speranza nelle afflizioni la speranza nelle afflizioni iniziamo con i primi due versetti la speranza della gloria di Dio Paolo inizia dicendo dunque o perciò Paolo continua il suo discorso perciò dopo aver spiegato in che modo l'uomo è giustificato per sola fede per la grazia di Dio ora Paolo afferma essendo stati giustificati per fede essendo stati giustificati per fede dice abbiamo pace con Dio come risultato della giustificazione Paolo dice abbiamo questo verbo al presente abbiamo continuamente pace con Dio ecco il risultato abbiamo pace con Dio quando parla di pace si riferisce alla riconciliazione di cui parlare al versetto 10 di questo capitolo dirà se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo noi giustificati per fede abbiamo pace con Dio siamo riconciliati a Dio grazie a chi? per mezzo di Gesù Cristo ecco in che modo abbiamo noi pace riconciliati per mezzo di Gesù Cristo Gesù Cristo lui è la nostra pace Efesini 2.14 pensate a noi che eravamo colpevoli Romani 3.19 colpevoli di fronte a Dio peccatori ingiusti noi siamo stati riconciliati per mezzo di Gesù Cristo non più nemici ma pace con Dio questo è un nuovo status che abbiamo davanti a Dio una nuova posizione una nuova condizione una nuova identità questa è la benedizione spirituale di coloro che sono giustificati per fede ricordiamoci di questo Paolo per molti versetti circa due capitoli e mezzo ha parlato della condizione spirituale degli uomini l'uomo è ingiusto l'uomo soffoca la verità con l'ingiustizia l'uomo non glorifica Dio non ringrazia Dio si dà a vani ragionamenti il suo cuore privo di intelligenza si è ottenebrato adora la creatura anziché il creatore l'uomo questa mente è corrotta il giudeo che pensava di essere giusto o il moralista anche lui è sotto l'ira di Dio perché anche lui è corrotto i giudeo che si riposava sulla legge si vantava e in realtà trasgredivano la legge disonoravano Dio e Paolo mette in luce che anche loro sono sotto il giudizio di Dio anche loro perché perché tutti giudei e gentili sono sottoposti al peccato tutti sono sottoposti al peccato cosa vuol dire che non c'è nessun giusto neppure uno non c'è nessuno che cerca Dio non c'è nessuno che capisca tutti si sono sviati questa è la condizione e ora il Romano 5 Paolo ci dice che per mezzo di Cristo per grazia abbiamo pace riconciliati per mezzo di Gesù Cristo e quando parla di pace qui non parla di un'emozione soggettiva no questo è un nuovo stato una nuova posizione per mezzo di Cristo indipendentemente dalle emozioni non è una pace che oggi potresti non avere domani in base alle circostanze è una nuova condizione è una nuova posizione riconciliato a Dio per mezzo di Gesù Cristo Paolo continua versetto 2 perché dice mediante il quale per mezzo di Gesù Cristo ancora abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi prima cosa parla di questa pace riconciliazione a Dio per mezzo di Gesù Cristo ma ora torna un po' indietro Paolo perché dice mediante il quale mediante Gesù Cristo abbiamo anche avuto l'accesso alla grazia l'accesso alla grazia questo termine accesso che troviamo anche in Efesini 2 18 sempre Paolo che scrive Efesini 2 18 dice potete ascoltare dice Efesini 2 18 per mezzo di lui di Cristo gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito 3 12 nel quale in Cristo abbiamo la libertà di accostarci a Dio l'accesso a Dio anche qui lo stesso termine accesso a Dio con piena fiducia mediante la fede in lui in Cristo per mezzo di Gesù Cristo abbiamo l'accesso alla grazia di Dio abbiamo l'accesso alla grazia della giustificazione non più sotto l'ira di Dio non più sotto il suo giudizio ma siamo sotto la sua grazia giustificati per fede l'accesso a Dio l'accesso a questa grazia è solo per i meriti di Cristo Gesù abbiamo già visto prima dato a causa delle nostre offese è stato dato a causa delle nostre offese 25 ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione abbiamo pace con Dio ma qui ci ricorda che abbiamo avuto questo accesso alla grazia solo per mezzo di Gesù Cristo non solo pace con Dio per mezzo di Cristo ma anche l'accesso a questa grazia e la grazia si riferisce a questo favore immeritato favore immeritato incondizionato abbiamo questa continua riconciliazione e abbiamo avuto in passato l'accesso alla grazia e continuiamo ad avere oggi questo accesso alla grazia è un continuo accesso ricordiamoci di come Paolo ha iniziato questo libro questa lettera parlando della condizione spirituale ha voluto mostrarci chi eravamo per ora mostrarci che solo per grazia che abbiamo pace con Dio inizia con il peccato la nostra condizione ora ci mostra che solo per mezzo di Cristo per la fede in Lui abbiamo avuto l'accesso a questa grazia e alla grazia della giustificazione questo accesso a Dio possibile in Cristo e poi giunge nella quale stiamo fermi nella quale stiamo fermi così come abbiamo avuto l'accesso a questa grazia per mezzo di Cristo nello stesso modo i credenti rimangono fermi nella grazia per mezzo di Gesù Cristo qui non sta dicendo abbiamo l'accesso a questa grazia mediante Cristo e poi rimaniamo fermi con le nostre forze no ci ha permesso l'accesso a questa grazia e ora noi rimaniamo fermi ma perché sempre per grazia infatti Romani 8 abbiamo letto la scorsa domenica Romani 8 quando parla della nostra chiamata versetto 30 8-30 chiamati giustificati glorificati e poi dice 31 che diremo dunque riguardo a queste cose se Dio è per noi chi sarà contro di noi colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per noi tutti non ci donerà forse anche tutte le cose con lui chi accuserà gli ha detto il Dio Dio è colui che li giustifica chi li condannerà Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato è alla destra di Dio e anche intercede per noi ecco perché rimaniamo fermi nella grazia abbiamo avuto questo accesso nella grazia nella quale stiamo fermi nella quale stiamo fermi ci sono molti altri versetti che evidenziano questa certezza in Giuda la lettra di Giuda versetto 24 quando termina dicendo a colui che può presere vervi da ogni caduta e farvi comparire reprensibili con gioia davanti alla sua gloria è Dio che ci preserva da ogni caduta Filippesi 1.6 Dio che ha iniziato un'opera e che la porta a compimento o anche prima Pietro 1.3.5 conservati dalla potenza di Dio abbiamo avuto questo accesso alla grazia nella quale stiamo fermi sia l'accesso alla grazia sia la fermezza nella grazia sono possibili in Cristo sono possibili in Cristo per grazia quindi qui vediamo che colui che è giustificato per fede a pace con Dio è riconciliato a Dio e tutto questo per mezzo di Cristo e per mezzo di Cristo abbiamo avuto anche l'accesso a questa grazia l'uomo non ha contribuito nulla alla sua salvezza ha avuto accesso alla grazia per mezzo di Cristo e Paolo aggiunge questo c'è un altro aspetto importante su cui si focalizza poi l'apostolo Paolo e ci gloriamo e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio questo termine gloriamo si riferisce letteralmente al vantarsi Romani 2 17 Romani 2 23 questo è il modo in cui viene tradotto vantarsi ma in questo contesto l'apostolo Paolo si riferisce a questo rallegrarci esultiamo e ci gloriamo e esultiamo e ci rallegriamo nella speranza della gloria di Dio quindi fermiamoci un attimino l'apostolo Paolo mette in luce abbiamo pace con Dio come risultato della giustificazione riconciliati a Dio per sempre costantemente poi grazia l'accesso alla grazia per medio di Cristo e ora mette in luce anche la gioia questo gloriarsi questo gioire rallegrarsi e la speranza che credenti hanno della gloria di Dio esultare nella speranza della gloria di Dio quando parla di speranza ho già accennato prima questo la speranza non si riferisce a questo ottimismo che il mondo ha riguardo a cose che non conosce riguardo al futuro cose di cui non ha certezza questa è una fiducia certa una fiducia che il credente ha di una realtà che non vele ma di cui è sicuro perché a motivo delle promesse di Dio Abramo che credette sperando contro speranza perché Dio ha promesso ed era certo e convinto di ciò che Dio aveva promesso una realtà che non vedeva ma di cui era convinto questa è la speranza biblica questa fiducia certezza che il credente ha questa fiducia gioiosa ci rallegramo nella speranza e questa fiducia certa della gloria di Dio della gloria di Dio ora quando parla di gloria di Dio cosa si riferisce questo esultare nella speranza della gloria di Dio questa fiducia certa della gloria di Dio a cosa si riferisce dobbiamo leggere alcuni versetti per capire qual è il significato in Romani 8 in Romani 8 Paolo parla della gloria in più versetti Romani 8 17 se siamo figli 8 17 se siamo figli siamo anche eredi eredi di Dio e coeredi di Cristo se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui e qui parla della futura glorificazione versetto 18 infatti ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo 21 quando dice nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio nella libertà della gloria dei figli di Dio versetto 23 parlerà poi della redenzione del nostro corpo quindi il riferimento qui è alla futura glorificazione alla nostra risurrezione versetto 30 la stessa cosa quelli che ha predestinati li ha pure chiamati e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati quindi quando parla di gloria la gloria di Dio il riferimento è alla nostra futura glorificazione la redenzione dei nostri corpi la risurrezione la speranza della gloria di Dio e la speranza della nostra futura glorificazione risurrezione quindi qui si parla di pace con Dio riconciliati la grazia la gioia di che cosa di questa certezza della nostra futura glorificazione Paolo parla e ci gloriamo dice ci gloriamo ci rallegriamo nella speranza questa fiducia certa della gloria di Dio della nostra futura glorificazione di questa gioia emotiva della fiducia della certezza che il credente ha riguardo a qualcosa che non vede ma di cui parla la parola di Dio pensiamo prima Giovanni 3 2 prima Giovanni 3 2 quando Giovanni scrive carissimi ora siamo figli di Dio ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo sappiamo che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui perché lo vedremo come egli è lo vedremo come egli è o filippesi filippesi 3 20 21 quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli da dove aspettiamo anche il salvatore Gesù Cristo il Signore che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa ecco la speranza che noi abbiamo la fiducia in quello che Dio ha promesso la gioia della nostra glorificazione ci rallegriamo nella speranza della nostra futura glorificazione tutto per grazia tutto per grazia pace quindi la grazia e la gioia e la speranza la speranza della nostra futura glorificazione questo è quello che vediamo questo è quello di cui beneficiano coloro che sono giustificati per fede la pace la grazia la gioia specificamente in questa speranza in questa certezza che riguarda la nostra futura glorificazione passiamo ora alla seconda parte dal versetto 3 al versetto 5 dal 3 al 5 in questa seconda parte Paolo si focalizza sulla speranza anche qui ma dice qualcosa di veramente molto forte perché abbiamo appena visto che il credente si rallegra di questa speranza che riguarda la futura risurrezione ma ascoltate quello che Paolo dice qui al versetto 3 non solo non solo non solo rispetto a che cosa non solo ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio ma dice ci gloriamo anche nelle afflizioni in questa seconda parte Paolo parla di questa speranza nelle afflizioni non solo esultiamo nella speranza della gloria di Dio ma esultiamo anche nelle afflizioni gioiamo anche nelle afflizioni ci rallegriamo anche nelle afflizioni questo diventa qualcosa di difficile apparentemente perché gioire della nostra futura risurrezione è un conto ma gioire nelle afflizioni esultare nelle afflizioni cosa vuole dire Paolo qui e questo è quello che dice chiaro ci gloriamo esultiamo nelle afflizioni e in che modo è possibile fare questo in che modo è possibile gioire nelle afflizioni letteralmente nelle tribolazioni quello che poi dirà Romani 8 35 chi ci separerà dal mone di Cristo sarà forse la tribolazione e poi l'angoscia la persecuzione la fame come è possibile gioire rallegrarsi anche nelle afflizioni qui parla di coloro che sono giustificati per fede in che modo è possibile se comprendiamo la ragione per cui possiamo anche gioire nelle afflizioni allora comprenderemo anche in che modo è possibile fare ciò se comprendiamo la ragione il perché possiamo gioire anche nelle afflizioni allora saremo in grado di gioire in altre parole dobbiamo capire perché perché ci dobbiamo gloriare anche nelle afflizioni esultare anche nelle afflizioni perché Paolo ora ci spiega perché questi versetti Paolo spiega la ragione per cui è possibile gioire anche nelle afflizioni la prima cosa che dice è questa non solo ma ci gloriamo anche nelle afflizioni sapendo che l'afflizione produce letteralmente perseveranza la prima cosa che dice per spiegarci in che modo è possibile gioire nell'afflizione o perché è questa sapendo che l'afflizione la tribolazione produce perseveranza produce perseveranza l'afflizione produce perseveranza quando parla di afflizioni qui sono afflizioni di diverso tipo ma si riferisce prevalentemente ad afflizioni che colpiscono i credenti a motivo della loro fede non parla delle difficoltà che tutti quanti devono affrontare nel mondo ma difficoltà che colpiscono specificamente i credenti a motivo della loro fede in Cristo infatti in Romani 835 quando parla di tribolazioni dice chi ci separerà dall'amore di Cristo sarà forse la tribolazione l'angoscia la persecuzione la fame la nudità il pericolo la spada come è scritto per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno siamo stati considerati come pecore da macello in riferimento a difficoltà dovute all'amore che abbiamo per Cristo che subiamo a motivo della nostra fede in Lui Paolo parla di questo in molte sue lettere per esempio brevemente alcuni versetti in 2 Timotio 2 Timotio 3 12 Paolo dice queste parole del resto tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati chi vuole vivere piamente sarà perseguitato o prima testo l'anicesi 1 6 parlando dei testo l'anicesi 1 6 voi siete divenuti imitatori nostri del Signore avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze con la gioia che dà l'ospito santo in mezzo alle prove a motivo della loro fede la persecuzione loro hanno giuito grazie all'ospito santo capitolo 3 versetto 3 affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni ecco perché dice preferimmo restare soli ad Atene e mandammo Timotio perché per confermarvi e confortarvi nella vostra fede affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni versetto 7 per questa ragione fratelli siamo stati consolati a vostro riguardo a motivo della vostra fede pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni quindi costantemente parla di afflizioni Paolo nelle sue lettere che riguardano coloro che vivono per Cristo e che a motivo della loro fede subiscono queste afflizioni ci sono anche molti altri versetti filippesi filippesi 4 14 o filippesi 1 28 Paolo che è in prigione a motivo della sua fede in Cristo e Paolo gioisce queste sofferenze che subisce ingiustamente quindi il contesto qui parla di afflizioni che colpiscono i credenti specificamente a motivo della loro fede e Paolo mostra che queste afflizioni producono che cosa perseveranza le afflizioni conducono il credente a crescere nella perseveranza a continuare ad essere fedeli a Dio nonostante l'opposizione questo termine perseveranza è lo stesso che troviamo anche in Giacomo Giacomo capitolo 1 Giacomo capitolo 1 che parla delle prove considerate fratelli miei una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate sapendo che la prova della vostra fede produce costanza anche qui è perseveranza la prova della fede in mezzo alle afflizioni produce perseveranza ecco in che modo è possibile quindi gioire nell'afflizione perché cominciamo qui a capire che grazie a queste afflizioni cresciamo nella perseveranza in queste afflizioni non solo Paolo continua e la pazienza letteralmente la perseveranza produce che cosa l'esperienza il termine originale non è esperienza un po' importante capire il significato di questo termine l'afflizione produce la perseveranza l'afflizione produce perseveranza e la perseveranza produce che cosa prova il termine greco è prova prova in altre parole produce un carattere provato un carattere che è approvato si riferisce a qualcosa che è stato approvato come risultato di un test un carattere che ha superato la prova per esempio alcuni versetti per capire il significato importante Filippesi 2 22 quando parla di Timotio voi sapete che egli ha dato buona prova di sé ha dato buona prova di sé o in seconda Corinzi 2 9 perciò vi esorto a confermarvi il vostro amore poiché anche per questo vi ho scritto per vedere alla prova che siete obbedienti in ogni cosa il termine è prova seconda Corinzi 8 2 parlando delle chiese della Macedonia 8 2 perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate vedete afflizioni che mettono alla prova che provano ci sono altri versetti un altro termine simile che proviene dalla stessa radice termine greco è Giacomo 1 3 Giacomo 1 3 sapendo che la prova vedete la prova della vostra fede produce costanza o anche in prima Pietro 1 7 quando dice affinché la vostra fede che viene messa alla prova che è ben più preziosa dell'oro che perisce tuttavia provato con il fuoco sia motivo di lode di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo il termine significa prova la perseveranza produce la prova cosa vuol dire produce che cosa porta ad avere un carattere cambiato messo la prova una condotta cambiata quando ci sono afflizioni queste nei credenti producono la perseveranza e questa perseveranza conduce ad una condotta cambiata ad una crescita conduce ad un cambiamento la crescita del nostro carattere che viene messo alla prova che è approvato fratelli sorelle Dio usa le afflizioni per farci crescere nella perseveranza affinché ci sia un cambiamento in noi per la nostra santificazione Dio usa le sofferenze per fare crescere noi i suoi figli affinché ci sia un cambiamento in noi infatti in Giacomo 1 quando parla di prove dice la costanza e la perseveranza compie pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti e completi nulla mancanti Dio vuole correggerci per santificarci per renderci partecipi della santità di Dio ebrei 12 non possiamo leggere questo versetto questi versetti ebrei 12 ma importante perché parla di correzione quando dice essi i padri i nostri padri infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno ma egli Dio lo fa per il nostro bene affinché siamo partecipi della sua santità le afflizioni quindi si rivelano una benedizione perché Dio le usa per portarci alla perseveranza per portarci ad avere un carattere cambiato provato e questo carattere provato questo cambiamento la santificazione conduce poi alla speranza e l'esperienza questo carattere cambiato provato produce c'è che cosa è speranza ecco perché gioiere nelle afflizioni a motivo della speranza a motivo della speranza della nostra futura glorificazione questo è quello che Paolo vuole dire importante fondamentale Dio usa le afflizioni per purificarci e questa sua opera a noi è la prova di che cosa che siamo suoi figli ed ecco perché gioiamo nella speranza che abbiamo ecco perché abbiamo certezze della nostra futura glorificazione perché se Dio opera a noi oggi è la prova che siamo suoi e che persevereremo fino alla fine la certezza della vita eterna e della nostra futura glorificazione risiede nel fatto che Dio sta operando in noi attraverso le afflizioni e ci fa crescere la santificazione la santificazione è la conferma che siamo suoi figli è la conferma che siamo suoi figli quando Dio ci corregge quando Dio ci corregge è la prova che apparteniamo a Lui e questo produce speranza ovvero ci porta a gioire della certezza che abbiamo della futura glorificazione ecco perché gioire nella speranza della gloria di Dio e gioire anche nell'afflizione perché proprio attraverso le afflizioni che Dio ci corregge e quindi rivela ancora una volta conferma che siamo suoi figli in Filippesi 1 abbiamo visto questo nei dettagli nel nostro studio Filippesi 1 quando parla di sofferenze per il nome di Cristo Filippesi 1 28 quando incoraggia i filippesi non essere spaventati dagli avversari ascoltate bene questo per loro gli avversari è una prova evidente di perdizione ma per voi di salvezza e ciò da parte di Dio perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui ma anche di soffrire per Lui ecco perché è una grazia soffrire per Cristo perché quando soffri per Cristo Dio ti corregge e ti mostra ti conferma che sei suo figlio e che tu un giorno verrai risuscitato le affezioni conducono alla speranza se Dio ha iniziato un'opera in noi Filippesi 1 6 ci sarà una continua opera di santificazione in noi e questo garantisce la nostra futura glorificazione ecco perché gioire nelle affezioni pensate come cambia la prospettiva nostra quando siamo afflitti per il nome di Cristo Atti 5 Atti 5 sentite quello che accade in Atti 5 40 e 41 parla di Pietro degli Apostoli essi furono da Lui convinti e chiamati gli Apostoli li batterono ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù si sono rallegrati perché perché era la conferma che erano figli di Dio le afflizioni conducono la speranza e quando siamo afflitti a motivo di Cristo per il nostro amore per Cristo il credente è ancora più sicuro della sua appartenenza a Dio ed ecco perché rallegrarci perché le afflizioni contribuiscono a garantire la nostra speranza colui che ci ha chiamati e colui che ci ha giustificati e che ci ha glorificati ecco perché gioire anche nelle afflizioni perché la santificazione rende sicura la nostra speranza perché questa è la prova dell'opera di Dio questa è la prova dell'opera di Dio quando siamo afflitti e perseveriamo fino alla fine e cresciamo in Lui Dio ci corregge ci fa crescere mediante le afflizioni e la conferma che siamo Suoi e questo ci porta a gioire ci porta a gioire e a sapere che nessuno potrà separarci dal suo amore che nessuno potrà separarci dal suo amore Paolo continua versetto 5 parlando di speranza questa fiducia completa e certa che abbiamo della nostra futura glorificazione ora la speranza ascoltate bene la speranza non delude la speranza che i credenti hanno non delude questo termine delude significa non sarà causa di vergogna non sarà causa di vergogna non ci sarà un momento in cui noi ci vergogneremo davanti a Dio in prima Giovanni prima Giovanni abbiamo visto questo nei dettagli prima Giovanni sentite quello che disse Giovanni prima Giovanni 2 28 e ora figlioli rimanete in lui affinché quando egli apparirà possiamo aver fiducia e la sua venuta non siamo costretti a ritirarci da lui coperti di vergogna la speranza non delude non delude abbiamo completa certezza della nostra appartenenza a lui i credenti giustificati per fede hanno piena fiducia per quanto riguarda il giudizio non dovranno vergognarsi la loro speranza non delude è piena certezza nessun timore del giudizio perché questo perché la speranza non delude per quale ragione la speranza non delude perché perché l'amore di Dio l'amore che Dio ha per noi l'amore di Dio è stato sparso questo verbo significa è stato versato abbondantemente nei nostri cuori in che modo mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato ecco perché non delude la speranza perché Dio ha versato abbondantemente il suo amore per noi non il nostro per lui l'amore di Dio è l'amore che Dio ha per noi ha messo questo nei nostri cuori costantemente nei nostri cuori grazie alla presenza dello Spirito Santo questo amore presente costantemente noi grazie allo Spirito Santo che ci è stato dato abbiamo quindi piena certezza personalmente soggettivamente a motivo del suo amore che ha versato sparso nei nostri cuori e sperimentiamo questo amore in che modo in che modo sperimentiamo sperimentiamo questo amore grazie allo Spirito Santo che ci è stato dato la domanda è questa fratelli a chi è stato dato allo Spirito Santo in questo contesto a coloro giustificati per fede a tutti i credenti tutti i credenti non è una seconda esperienza che si manifesta col parlare le lingue è questa una credenza carnale tutti coloro che sono giustificati per fede hanno lo Spirito Santo questo è quello che dice la parola di Dio c'è stato dato e il risultato è che abbiamo questo amore che Dio ha per noi nei nostri cuori grazie allo Spirito Santo non c'è nessun credente che non ha lo Spirito Santo fratelli Romani 8 9 voi però non siete nella carne ma nello Spirito se lo Spirito di Dio abita veramente in voi se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo non appartiene a lui oggi purtroppo alcuni credenti pensano che ci sono credenti senza lo Spirito Santo e che poi ricevono dopo lo Spirito Santo ma questo è un gravissimo errore c'è stato dato questo è quello che dice Dio c'è stato dato di chi parla di coloro che sono giustificati per fede e di conseguenza come risultato abbiamo questa speranza che non delude perché l'amore di Dio per noi è stato sparso versato abbondantemente nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo ecco quindi in che modo gioire anche nelle afflizioni perché la santificazione è la prova la dimostrazione che Dio sta operando in noi e che siamo Suoi figli e l'amore di Dio in noi ci dà questa certezza personale soggettiva perché Dio ha messo questo amore nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo ecco come possiamo essere certi della nostra futura glorificazione e gioire anche nelle afflizioni sapete in che modo noi sperimentiamo questo amore di Dio per noi mediante lo Spirito Santo nelle afflizioni Dio ci corregge questo è l'amore di Dio ebrei 12 Dio il nostro padre è un padre che ama corregge vuole cambiarci vuole trasformarci ecco in che modo si manifesta questo amore che Dio ha messo in noi cambiandoci nei nostri cuori ed ecco perché possiamo gioire nelle afflizioni perché è nell'afflizione che noi sperimentiamo l'amore di Dio quando ci cambia quando ci corregge per renderci partecipi alla sua santità ed ecco perché nessuno e niente potrà separarci dall'amore di Cristo perché ci ha dato il suo spirito e questo amore è presente in noi mediante la presenza dello Spirito Santo costantemente neanche le afflizioni possono separarci anzi gioiamo nelle afflizioni perché è lì che vediamo l'amore di Dio tutto si capovolge le afflizioni diventano uno strumento per vedere e gustare l'amore di Dio per noi il quale ci cambia nel carattere nella persona ci porta la perseveranza e tutto ciò la speranza la speranza la fiducia la certezza della nostra futura glorificazione in questi versetti abbiamo visto più cose importanti cruciali la prima cosa è la pace che abbiamo con Dio riconciliati a Dio come frutto della giustificazione non solo abbiamo avuto l'accesso a questa grazia per mezzo di Cristo non grazie ai nostri meriti l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi grazie a Cristo l'accesso a Dio e poi la gioia la gioia che credenti hanno a motivi di cosa della speranza della loro futura glorificazione questa gioia della speranza della loro futura glorificazione non solo gioiamo nella speranza della gloria di Dio ma anche nelle afflizioni perché attraverso le afflizioni Dio conferma che siamo i Suoi figli perché ci santifica ci porta la perseveranza cambia il nostro carattere che viene messo alla prova e ci porta alla speranza noi gustiamo la speranza della nostra futura glorificazione proprio quando Dio ci cambia la santificazione la prova della nostra appartenenza a Dio ed è la certezza quindi della nostra giustificazione e della nostra glorificazione ecco perché essere certi della salvezza ecco perché siamo certi della salvezza perché Dio opera in noi è Dio che ha iniziato questa opera l'accesso alla grazia è colui che continua ad operare nella nostra vita ed è colui che completerà questa opera con la nostra glorificazione la santificazione quindi è la testimonianza di ciò che Dio ha iniziato e che porterà a compimento la santificazione in mezzo alle afflizioni ed ecco perché gioire credente a piena certezza di questa speranza attraverso l'opera di Dio e lui attraverso l'amore di Dio per lui che ha sparse nel suo cuore mediante lo Spirito Santo lo Spirito Santo dato a tutti coloro che sono giustificati per fede come dice che ci è stato dato ed ecco come risultato che noi sperimentiamo questa speranza motivo di questo amore che Dio ha per noi motivo di questo amore che Dio ha per noi sapete Paolo scrive queste cose ma Paolo è un esempio Paolo ha vissuto tutto ciò nella lettera ai filippesi abbiamo studiato in passato Paolo mostra in questa lettera che scrive dalla sua prigione mostra la sua gioia Filippesi 2 17 ma se anche vengo offerto in libazione se anche devo soffrire sul sacrificio e sul servizio della vostra fede se anche devo soffrire per servire voi ne gioisco e me ne rallego con tutti voi nel capitolo 1 Paolo mette in luce che lui è in prigione alcuni predicano con spirito di rivalità pensando di provocare a lui qualche afflizione lui risponde che importa comunque sia con ipocresia o con sincerità a Cristo annunziato di questo mi rallegro e mi rallegro ancora Paolo gioisce anche nelle afflizioni e poi Filippesi 1 29 Paolo afferma questo incoraggiando i filippesi perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in lui ma anche di soffrire per lui la sofferenza per il nome di Cristo è la prova evidente della nostra salvezza e della nostra futura glorificazione proprio la sofferenza ecco perché Gesù disse ai discepoli queste parole Matteo 5 10 Beati i perseguitati per motivo di giustizia perché di loro il regno dei cieli Beati voi quando vi insulteranno vi perseguiteranno mentendo diranno conto di voi ogni sorta di male per causa mia sentite bene rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi voi siete come i profeti siete in Cristo credenti figli suoi rallegratevi rallegratevi proprio nelle afflizioni possiamo giuire perché perché siamo suoi figli Dio ci corregge Dio opera in noi testimoniando della nostra giustificazione della nostra futura glorificazione e termino con alcuni versetti Pietro 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 nella sua prima lettera prima Pietro 4 dice queste parole prima Pietro 4 12 e 13 sta scrivendo ai credenti perseguitati a motivo della loro fede che stanno soffrendo a motivo della loro fede e Pietro dice queste parole carissimi non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano anzi rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo perché al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare la speranza non delude la speranza non delude possiamo rallegrarci perché partecipiamo alle sofferenze di Cristo le nostre sofferenze per amore di Cristo è la prova evidente della nostra futura glorificazione ed ecco perché gioire questa è la speranza gloriosa dei figli di Dio di coloro che Dio ha giustificato per fede